Buongiorno, sono il dottore Simone Astori, direttore didattico di Kern School, ente di formazione accreditata in Regione Lombardia per la formazione della figura di massaggiatore capovagnino, unica figura sanitaria che è autorizzata alle terapie fisiche manuali e di massaggio tradizionale e sportivo. La nostra scuola è aperta a studenti, diplomati e laureati. Prevediamo infatti due modalità di accesso, una modalità full time della durata di due anni che è volta agli studenti neodiplomati o con qualifica professionale biennale e una modalità mix mode della durata di solo un anno volta ai dottori in scienze motorie, fisioterapia e scienze dell'esercizio fisico e del benessere, grazie al meccanismo del riconoscimento crediti universitari. Attraverso la formazione in Kern School, i nostri studenti apprendono sia le materie teoriche, volte a una preparazione di base fortissima per quanto riguarda le materie di anatomia, fisiologia e patologia, oltre che le specifiche patologie di interesse MCB, quindi l'ortopedia, la traumatologia e la reumatologia, oltre che le materie più pratiche come il massaggio tradizionale, il massaggio sportivo e il massaggio connettivale fasciale, oltre che l'utilizzo delle strumentazioni specifiche dell'MCB come l'articard terapia e le onde d'urto radiali nel corso di terapia fisico-strumentale. I nostri corsi sono rivolti a diplomati e laureati. Ogni anno partono due sessioni, una primaverile e un'autunnale, con due modalità di frequenza. Sono i corsi diurni e i corsi intensivi. Queste modalità permettono ai nostri studenti di organizzare al meglio i loro impegni di lavoro e di studio. Per quanto riguarda le materie teoriche, tutte le lezioni vengono erogate con la modalità a distanza, mentre per le materie pratiche è richiesta la modalità in presenza. La scuola fornisce a tutti gli studenti il materiale didattico composto da slide e, per quanto riguarda la parte pratica, da uno zainetto. Questo zainetto contiene al suo interno una t-shirt, un telo, un olio per massaggi, dei vendaggi e dei kinesio tape, che serviranno per l'intero anno di corso. La forza di Kern School si basa in particolar modo sul metodo scientifico che noi utilizziamo nell'approccio per le materie teoriche e pratiche e sul nostro corpo docenti, formato da personale laureato, con una pluriannale esperienza dal punto di vista della formazione, oltre che figure di spicco nel panorama migliorino e regionale per quanto riguarda le specifiche aree di competenza. All'interno del nostro team di lavoro, infatti, abbiamo avvocati, infermieri, fisioterapisti, laureati in scienze motorie, che portano all'interno delle loro lezioni, delle loro conoscenze teoriche e delle loro conoscenze pratiche, consentendo così ai nostri studenti non soltanto una comprensione delle materie teoriche, ma affiancando al sapere anche il saper fare. I nostri studenti, durante il loro percorso di studi, devono anche svolgere 200 ore di tirocinio e preparare un elaborato finale, che verrà portato all'esame regionale. L'esame regionale permette di conseguire il diploma di massaggiatore capobagnino degli stabilimenti idroterapici, titolo abilitante, riconosciuto su tutto il territorio italiano ed europeo. La nostra scuola è convenzionata e partner di molti enti sanitari in Milano, ospedali, poliambulatori, RSA. In particolar modo i nostri studenti avranno la possibilità di frequentare il tirocinio obligatorio, che era durata di 200 ore, all'interno del poliambulatorio MediCarn con cui siamo convenzionati. La scuola è sita in via Mario Pagano a 37, facilmente raggiungibile attraverso i metri pubblici, con la metropolitana, linea rossa, alle fermate di Pagano o di Conciliazione e molto vicino alla fermata della metropolitana padorna, che anche siede di stazione ferroviaria. I nostri studenti, durante il loro percorso in Kern School, affronteranno le tematiche per diventare i migliori professionisti MCB del futuro e in questo siamo diventati scuola leader del settore, tanto che l'85% dei nostri studenti trova lavoro entro il primo anno dal diploma. Se avete deciso quindi di intraprendere la vostra formazione per diventare MCB, Kern School è la scelta giusta per voi. Seguitici sui nostri canali social e sul nostro sito internet e contattate il nostro servizio di orientamento per qualunque aggiornamento o informazione. Grazie e continuate a seguirci. Grazie a tutti.